Buona la sua stagione in Serie A, lui che viene dall'A2, Watt, la penetrazione e la schiacciata in reverse di Mitchell Watt che si fa sentire. Un cambio obbligato quando una giocatrice è così importante nell'economia di squadra. Torna Nicolò di in campo, Carangelo vada, Henderson! Abbiamo un'altra protagonista della partita? Esattamente, qui anche una semi magia di Carangelo.